wey bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video io sono la pami e io sono sud e allora ragazzi oggi stiamo vedendo una sfida per la settimana numero 6 che può sembrare facile ma in realtà non lo è ci chiede di distruggere tre cucce di cane come vedete siamo a siepi d'agrifoglio ed esattamente in questo angolino troverete la prima cuccia di cane se poi ci spostiamo evitando anche che la gente ci ammazzi la seconda cuccia di cane si trova esattamente lì davanti quindi molto molto facile ragazzi raggiungere a siepi d'agrifoglio le due cucce di cane da qua potete tranquillamente spostarvi raggiungere parco pacifico e la terza cuccia la traverete la troverete esattamente nell'angolino dove c'è la casa con il forziere con dentro la cuccia ovviamente troverete anche altre cucce a corso commercio qualora la andaste da quella parte basta semplicemente andare nelle zone dove ci sono le case e credo che possa essercene anche una a scogliere scoscesi ma quindi niente di difficile ragazzi fate le tre cucce rompetele e la missione è fatta noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi aspetta per quelli che sono in live non me ne sto andando ma lo sanno e non lo sanno ciao 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 ciao